La bufera che si è scatenata sull'asola di Bari finirà in consiglio regionale, o meglio ci tornerà e sarà al centro di una seduta monotematica. Il presidente Onofre in trona, dopo la pesante relazione degli ispettori ministeriali, secondo cui ci sarebbero stati sprechi ed errori nella gestione, ha detto di essere pronto a convocare l'assemblea persino durante le ferie d'agosto. Se necessario si andrà ad una seduta straordinaria del consiglio, ha scritto in trona, dopo che sarà pervenuta all'aggiunta all'informativa urgente richiesta all'amministratore dell'asola, Domenico Colasanto. Il capogruppo di Forza Italia, Ignazio Zullo, chiede di più, ossia che il governatore vendola avvia una verifica su ogni punto della relazione del ministero e venga in consiglio a riferirla. Il caso dell'azienda barese, continua Zullo, va visto come occasione per fare un approfondimento su tutto il sistema sanitario regionale, dall'operato dei direttori generali e alle loro valutazioni, dalla rotazione dei dirigenti alle spese superflue, la qualità dei servizi, i controlli da potenziare. Nei giorni scorsi, secondo quanto denunciato proprio da Forza Italia, sarebbe emerso dalla relazione degli esperti ministeriali un danno errariale di 24 milioni in 5 anni. Le carte sono finite alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica.